ok allora a questo punto dopo aver spattaccato coi cammini siamo dps e andiamo a completare la nuova mappa cioè nuova per modi di andiamo a completare la nuova avventura ovvero andiamo a cima di icepire 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 qui come collare danno proporzione 35 130 180 80 proporzione danno fisico 700 direi potere incontro se si si collare potere incontro oddio vediamo la ricarica 17 19 17 mamma mia tantissimo 15 15 e tanto 18 15 madonna santa ma sono prendendo estrezza andiamo sul sicuro apri guadagno gloria oro davanti astrali potere a volontà potere incontro giornaliere bonus controllo guadagno punti azione perché non mi fa cioè c'ho il vip scusa eh adesso non vorrei dire ma il vip è fatto era fatto apposta per non dover fare per non dover stare sopra il fuoco 0 eh santì dio 2 per cento in più io prenderei destrezza comunque non so che mi consigliate dalla chat Che collare mi consigliate? Un collare diciamo che vada bene per tutte e due. Potere incontro. Io direi punti azione, non so perché, però mi viene da pensare a punti azione. Che va bene a tutte e due. Concedere l'immunità a maggior parte dell'attacco contro l'anno. Riduce il danno, eh sì, sta giornaliere è tanta roba cazzo. Riduce il danno subito del 15, aumenta il danno bonus del 15 dai. No, punti azione, deciso. Deciso, deciso, punti azione. Collare punti azione. Dove cavolo sarà? Tant'è vincolata al PG, non lo posso neanche passare. Incontro, giornalieri. Resistenza, guarigione. Oh, guarigione è uscita anche volendo. Però no, punti azione, punti azione. Punti azione! Dove cazzo sta punti azione? Eccolo! Guadagno punti azione aumentato. Ok, preso. Fatto. Mio. E lo mettiamo qua. Ecco là. Ecco là. Ops. Eh dai, ma sono scemo. Raffina. Ah, non mi basta, no? Ok, GG. Ok, scusa. Va bene, andiamo. È ben fatta. Viaggia. Cima di Icepear. Yes. Cima di Icepear. Speriamo di finirla abbastanza velocemente. Sono otto missioni, nove missioni. Ok. Da quant'è che non vengo in sta mappa, mamma mia. Allora. Andiamo a parlare con Ciccio Calogero. Eccolo qua. Completata. Rigionieri di guerra. Ok, prendiamo questa. Ci dà tutta sta robaccia. Andiamo a vedere quante missioni sono. Allora, quante missioni sono? Uno, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, quindici, quindici missioni, sti cazzo. Mamma mia. Per un compagno viola del cazzo. Che fa sta robaccia. Dopo essere stato risuscitato, aggiungi all'1% di precisione e vantaggio. Dopo che sei morto, praticamente. Lol. Di ridurre la consapevolezza. Vabbè. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora. Che ora è? Quindici missioni, cinque e mezza. Chissà se la fanno. Ah, aspetta. Aspetta. Dov'hai? Ma andov'hai? Se le pietre non ce le hai. Allora, il DPS, abbiamo il potere, eh, cos'era? Potere Cree, severità, quindi, direi questi tre. Uno, due, tre. Allora. Uno. Due. E poi qua mettiamo l'altro, severità, critico. Così. Dovrebbe andare. Colpo critico del 3%. Precisione, critico, precisione, critico, severità. Non ci dispiace, no? Vero? Dovrebbe essere male. Oppure così. Direi così. Però, io voglio un po' di potere, quindi. Perché non è? Prendo tutto a fanculo. No, no, diciamo così. 20.000 di potere. 21.800. 70% di potere. Non ci dispiace. Non ci dispiace. Allora, qui. Critico precisione. Precisione vantaggio. Critico precisione. Critico precisione, così. Ok, andiamo così. Allora, dove devo andare? Salva i lavoratori. Andiamo a salvare questi pezzenti. Sì, sì. Prossima volta. No. Devo andare di qua. Ho sbagliato strada. Ah, no. Cos'è sta roba? Sto dando da fuoco. Mi fa ridare. Uno di cinque. Uno di cinque. Hmm. Gli schiaffi li prende e non va bene. Deve prendere meno schiaffi. Colpisci in affondo. Quello lo lasciamo. Sfaro un attacco doppio sui nemici circostanti. Infliggendo danno arcano. Ogni colpo. Proporzioni 250. Ad area. Infliggi danno fisica al nemico. Questo è il single target. 400. 50% di probabilità che tu possa utilizzare subito. Questa abilità. È lento comunque, eh. È molto lento come skill. È molto, molto lento. Dove è l'altra cassa? La. No, merda. Ho usato una pozione che non dovevo usare. dai ma non è da clicca pensavo di si mannaggia li mortacci dei li mortacci tua no mi ricordavo che c'era qualcosa ma non pensavo fosse sta cagata però vabbè ormai la cassa la cassa questa no questa nemmeno quello nemmeno è morto sono troppi accidenti accidentaccio quanti cazzo siete oh non mi ricordo le canzoni non mi ricordo quadrato x sotto quadrato x cerchio questa invece è più complicata cerchio quadrato destra sotto cerchio quadrato destra sotto quadrato destra madonna cerchio quadrato destro sotto quadrato destra beh cerchio quadrato destro sotto quadrato destra che cazzo fa sta roba non fa niente ho sbagliato a suonare un friggi danno da proiettile ai nemici in fila sti cazzi applica la guarigione nel tempo a te stesso capito ma mi fa suonare una volta ogni mordebapa una canzone amobbata praticamente salve vabbè Ah fangco torna torna lo facciamo così che è più veloce completa la tana dei goblin hai raccolto 50 pezzi di conoscenza non ci interessa allora vai a tana dei goblin qua allora incantamenti io non li metto che ci faccio ah qua abbiamo da mettere un altro manufatto potere severità pontiferita oppure questo pontiferita potere precisione direi questo allora dove è sto posto la vediamo la è a sto posto qua no vi odio andiamo dentro e via matana dei goblin è lungo? molto si qua è chiuso sicuro la strada infatti questo potere incontro non mi piace cioè a volontà sembra forte ma 150 non mi piace E' un cazzo E' un cazzo E' un cazzo Ma che raggio d'azione ha sta roba? Intorno a te Si converte In confuoco quando Sotto l'effetto Del mambo del vento Hai capito? Ma Flamenco di fuoco Canto Mambo del vento Infliggi danno da proiettile Quindi devo suonare questa E poi questo poter a volontà Infliggi danno da proiettile E' un nemico in fila davanti a te Si converte Con moto Quando sotto l'effetto Mambo del vento Con fuoco Con brio Quando l'effetto Marcia dell'acciaio Flamenco di fuoco Si converte con fuoco Quando sotto l'effetto Flamenco di fuoco Infliggendo danno da fuoco Intorno a te Con una proporzione più alta Tra 50 Aumenta la produzione Dei tuoi poteri a volontà E' incontro Di 20 E converte Il tipo di danno In danno da fuoco Durata 72 secondi Aumenta del 2% Il danno bonus Infitto da te E degli alleati Applica quel genere Nel tempo 60 secondi Complicato Usare il bardo Comunque A ricordarsi Tutte ste note Madonna Quando usi La canzone Del vento Questa Infliggi danno Da proiettili Nel nemico Infia da te Il potere Volontà Incontro Di 20 Converte Il tipo Di danno In danno Da proiettile Eh si Danno fisico Aumento Del 2% Il danno In Infitto La Te Dai No Si Converte In Confuoco Quando Flamenco Di Fuoco Eh 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 Fa La Stessa Cosa C'è Praticamente Flamenco Di Fuoco E Vento Fanno La Stessa Identica Cosa La Differenza È Che Questo Fa Danno Da Proiettile In Fila E Questa Invece A Raggio Sì 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 Cerchio Quadra No Cerchio Quadrato Destra Sotto Cerchio Quadrato Destra Madonna Ho Sbagliato Cerchio Quadrato Destra Sotto Cerchio Quadrato Destra Altra Ad Questa è e le cure quindi allora fuori dal combattimento devo tirarmi prima le cure e poi vado in combattimento sti stica allora fuori dal combattimento e le cure come cazzo è il potere qua applica la guarigione nel tempo a testo segnalati quindi quadrato x sotto quadrato x cerchio quadrato x sotto quadrato x cerchio ok poi entro in combattimento com'era quadrato cerchio destra sotto quadrato x cerchio test ok no ho sbagliato non male così prosti cazzi vabbè andiamo ormai siamo qui ok prendi tutto ho sbagliato bene 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 non male così comunque dai kit ma non è sta non mi ricordo questo x quadrato x sotto quadrato x cerchio quadrato x sotto quadrato x cerchio pazza di affondo che ha fatto madonna pazza di affondo che ha fatto madonna non ho capito se quando attivi una canzone poi dopo se ne fai un'altra quella che ha fatto prima rimane oppure no tipo ma come era come cazzo era qua quadrato x sotto quadrato x cerchio quadrato x sotto quadrato x cerchio vediamo subito se mi cura oppure no nel tempo dovrebbe essere sembra di no perché non vedo le cure dove fuggi o testicolo mi sembra cosa fai come i giocatori che fuggono quando prendono le botte oh è stata buona un attimino non ho sbagliato muoro 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 cazzo muoro è andata bene non mi ricordo le note così come cazzo era lei con sta divinità sta esibizione di merda dai che una mossa affanculo come era quadrato x sotto quadrato x cerchio marcatroia comunque non lo fa ho già capito che non lo fa o fai una canzone o fai un'altra non le fa tutte e due non rimangono attive tutte e due allora allora Inserita in uno slot Allora, che è qua? Questa Scambiala con flamenco Direi di sì Più comoda Esatto Ok Certo che le potevo... Ah, le posso mettere lì Ok, tutte e quattro Bene Ma Poi Dove cavolo è? Sposta nello slot due Slot tre Ok Oh, almeno le posso vedere, cazzo Ok E poi qui Adesso qui andrà sbloccata La quarta, la quinta, la sesta canzone Sblocca il livello 12 Sposta su tasto R2 Sposta tasto R2 Che vuol dire? No No R2 È qua? Come funziona qua? No Come cazzo è messo qui? Ammo? Ammo? Ah Quindi se questa l'ho spostata tasto R2 Elimina da canzone slot 1 tasto R2 Ok L'ha eliminata R2 R2 Ok L'ha rimesso Un po' complicato Nivello 12 Il fronte avanzato E possiamo creare una canzoncina Allora Mettiamo tutte le statistiche Forza carisma Ok Poi Allora Innanzitutto Qua Questo così Ok Slot 1 Ok Ok Ma non ho suonato Ma non ho suonato Non cambia nulla Non cambia nulla Ah 66 Il tempo Che dura sta a fare 72 secondi Allora Noi vogliamo Questa Lo slot 4 Lo slot 4 Ok Poi Intanto questo lo mettiamo qua Che tanto lo usiamo sempre Ma Perché Anna l'ha messo? Elimina 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 Da canzone Slot 1 Tasto associato R2 Ah ok Fa da solo Ok Ok Va bene E allora Nel primo Questo lo mettiamo nel primo La cura la mettiamo nel primo E questo nel secondo Anche nel quarto Ok Ok Quindi qua abbiamo Nel primo slot Abbiamo la cura Giusto Ok Cura Qui possiamo scegliere il primo talento E mettiamo E mettiamo Se non si trova in uno slot rapido Il canto ringiovanente diventa canto rinvigorente Canto ringiovanente Canto ringiovanente Quindi quello delle cure Diventa canto Diventa canto rinvigorente E cosa vuol dire Ringiovanente Cura istantaneamente i membri del gruppo vicini Proporzione 1.200 Ripristina 100 mana Divinità Tessuto Dell'anima Esibizione A tutti i guaritori E non annulla Le altre cante Manongia Dopo l'uso Ritorna a essere Un canto Ringiovanente Per 30 secondi Forte Questa Anche da dps Puoi curare C'è assurdo Sicuramente si curerebbe di meno Perché Le statistiche Sono impostate diversamente Sono messe per il dps Però Anche da dps Puoi curare Ogni volta che suoni una canzone Che non si trova in uno slot rapido E se c'è un tank Nel raggio di azione I tuoi attacchi Forniscono il tank Il 50% Della minaccia Che generano Eh Una bella scelta qua Stavo pensando a cose Mi arriva da ridere Quindi il primo talento Il secondo talento Cioè il primo talento sotto Aumenti la minaccia del tank Il primo talento sopra Aumenti Baffi tutto Praticamente Curi istantaneamente I membri del gruppo Quindi cura tutti Ripristina la divinità Lanea A tutti i guaritori E non a nulla D'altro Io direi questo Dai Lasciamo questo Eh sì Tanta roba Ok Preghiera 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 Preghiera